Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui ore 13.30, come avete visto ero in debito con voi dell'ultima squadra ad analizzare per quanto riguarda le 20 squadre di Serie A in ottica fantacalcio, mancava il Genoa, semplicemente perché neanche il Genoa stesso fino all'ultimo giorno di calcio mercato sapeva come avrebbe giocato, non che adesso le idee siano chiarissime perché ci sono un sacco di variabili, un sacco di opzioni in tanti ruoli, però diciamo che più o meno adesso abbiamo un'idea appunto di come andrà a schierarsi il Genoa di Ballardini in campo. Detto questo, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like e attivate la campanella se vi va per essere sempre aggiornati su tutte le notifiche di questo canale. Come avete visto ragazzi, il calcio mercato nell'ultime ore ha un po' sfasato le cose per quanto riguarda alcune squadre però sostanzialmente, ok, è arrivato Ken alla Juve, c'è stato il discorso di Caputo alla Samp quindi uno scamacca che diventa un po' più importante al Sassuolo ma tutti i discorsi fatti per le altre 19 squadre restano validi. Invece il Genoa no, infatti il Genoa non avevo fatto il video apposta perché appunto c'erano tante cose da considerare e quindi come gioca il Genoa di Ballardini? Beh, prima di iniziare a vedere il solito campetto diamo due dati veloci. Ballardini l'anno scorso, come spesso accade, arriva a campionato in corso e ancora una volta salva la squadra. Arriva a dicembre, la squadra comunque alterna buone prestazioni a prestazioni magari meno convincenti dal punto di vista del gioco ma solide, ok? Il dato che a noi interessa però è quello dei gol fatti dai vari componenti della squadra. L'anno scorso l'unico giocatore che nel Genoa va in doppia cifra è Destro con 11 gol poi c'è Scamacca con 8, Shomurodov con 8 e Pandev con 7 quindi come vedete Destro, Scamacca, Shomurodov, Pandev tanti gol perché comunque sono 19 più 7, 26 più 8, 34 gol in 4 attaccanti, non sono pochissimi ma molto frazionati succedere anche quest'anno è difficile da capire sicuramente davanti non ci sono delle gerarchie fisse delle gerarchie ben definite, ok? come tra poco vedremo quindi il Genoa sarà una squadra che segnerà tantissimo? non credo sarà una squadra che segnerà pochissimo? non credo sarà una squadra che segnerà un buon numero di gol? ok? secondo me medio-basso alla fine analizzando tutti gli attacchi lo troveremo nella parte destra per quanto riguarda gli attacchi ok? però non vedo un giocatore in questo momento che tu dici ok questo va sicuramente in doppia cifra ok? secondo me non c'è questo tipo di giocatore ma adesso entriamo un po' più nel dettaglio e andiamo a vedere come gioca il Genoa di Ballardini il Genoa di Ballardini dovrebbe giocare con un 3-5-2 in porta giocherà Sirigu il nuovo arrivato fresco di vittoria agli europei come vedete oggi vi ho messo la grafica di fantacalcio.it così per renderla un po' più vivace con i vari campioncini in difesa il centro-sinistra è occupato da Krishito rigorista di questa squadra il difensore centrale dovrebbe essere Maximovic ma occhio ragazzi perché c'è il giovane Van Hausden c'è Vazquez che qui viene messo centro-destra ma può anche giocare in mezzo e anzi io da quello che ho letto Vazquez lo vedevo più centro-sinistra che centro-destra però prendiamo per buono quello che in questo momento ci dice fantacalcio.it quello che a noi interessa è che sarà una difesa a 3 tutt'altro che imperforabile secondo me quindi tolto Krishito che è un rigorista Vazquez a me piace come scommessa ma come avevamo detto quest'estate ci vorranno un po' di settimane in modo che si adatti al nostro campionato Maximovic a me non lo so non mi fa impazzire poi arriviamo agli esterni che sono dei ruoli interessanti in questo 3-5-2 di Ballardini perché a sinistra abbiamo Fares o Cambiaso e secondo me sono giocatori che possono anche portare dei bonus sul discorso regolarità di voto invece non mi andrei a spingere con troppa fiducia a destra qui ci viene messo Biraschi ma in realtà ci può giocare Ghiglione ci può giocare Sabelli quindi vedete che il problema in ottica fantacalcio di questo Genoa sono i ballottaggi perché tu prendendo un Fares prendendo un Cambiaso prendendo un Biraschi prendendo un Ghiglione prendendo un Sabelli in realtà anche con una coppia soprattutto a destra non sei sicuro di avere sempre un titolare e quindi io qua qualche dubbio sull'acquisto in ottica fantacalcio lo avrei centrocampo a 3 Badeli è la sicurezza di questo centrocampo prende sempre oltre 6 è un ottimo regolarista lo pagate poco all'asta se vi serve un tappabuchi è il giocatore ideale per voi Sturaro ma occhio perché anche Rovella può giocare e poi Hernani che di tutto questo centrocampo sicuramente è il centrocampista con più qualità nelle gambe bonus anche però non dovrebbe quasi mai battere i rigori ma io credo che 4-5 gol Hernani quest'anno li possa tranquillamente fare poi arriviamo all'attacco dove in teoria i due titolari a parità di salute dovrebbero essere Caicedo il nuovo arrivato che secondo me è il giocatore con più possibilità di arrivare in doppia cifra e Pandem che però come sappiamo ha i suoi anni e quindi non potrà esserci sempre dall'inizio poi c'è Destro da non sottovalutare perché comunque l'anno scorso ha avuto un momento dove segnava sempre ed è stato l'unico giocatore ad arrivare in doppia cifra 11 gol e poi abbiamo una batteria pazzesca di giovani scommesse il problema è che contiamo insieme abbiamo già Pandem Caicedo e Destro sono già tre ci aggiungiamo Buxa che è una bella scommessa ma adesso prime punte iniziano una selezione già un po' tante perché Caicedo è una prima punta Buxa è una prima punta e Destro è una prima punta quindi siamo già quattro attaccanti contando anche Pandem abbiamo Callon siamo a cinque abbiamo Ekuban che sono sei e qualcuno me lo sto sicuramente dimenticando perché il Genoa ha un sacco di giocatori in rosa soprattutto in attacco quindi ragazzi io ho tolto Caicedo in questo momento per quanto riguarda il reparto offensivo io ne vedo poche certezze e anche a livello di scommesse perché dover scommettere su un Callon su un Ekuban o un Buxa quando abbiamo delle scommesse a uno o due crediti in altre squadre che sono già certe del posto ok cioè un Henry del Venezia è una scommessa la pagate uno due e vi gioca al massimo in ballottaggio con un giocatore non con cinque con uno un Beto dell'Udinese il nome Caldo di questa estate la vera star che è arrivata al nostro campionato è andato via Ronaldo ma è arrivato Beto ok Beto ragazzi può anche diventare titolare di questa squadra al massimo in ballottaggio con uno due attaccanti non con cinque quindi ragazzi in questo Genoa certezze ne ho poche ho Caicedo lì davanti ho Badeli e Hernani in mezzo ho Crescito in difesa poi troppi ballottaggi troppa incertezza troppi pochi bonus e quindi ok attingere da questa squadra ma lo farei con cognizione di causa non so se siete d'accordo fatemelo sapere qui nei commenti io nel frattempo ovviamente vi saluto vi ringrazio se non siete ancora iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi lasciate un like alcuni di voi mi hanno detto non mi iscrivo per non avere le notifiche che mi disturbano ragazzi non c'è problema vi iscrivete al canale e poi togliete le notifiche va benissimo a me non interessa però almeno l'iscrizione si ragazzi circa il 40 45% di voi guarda i video ma non è iscritta mi raccomando grazie mille è stato un piacere come sempre io vi saluto vi ringrazio ciao a tutti e alla prossima ciao ciao